Ok, iniziamo con una lettura tratta dal libro che andiamo a presentare. È più sana, una pagnotta confezionata in un grande stabilimento agroalimentare? È una pagnotta di farina di grano biologico impastata a mano dal contadino di fiducia? Le normative igienico-sanitarie attualmente in vigore impongono a chiunque si occupi della trasformazione di prodotti alimentari, indipendentemente dall'entità della produzione e dal tipo di lavorazione, di dotarsi di laboratori specializzati. che rispettino determinati standard di dimensioni e attrezzature. Queste leggi sono state pensate per regolamentare l'attività delle grandi industrie agroalimentari, che lavorano con grandi quantità di prodotto e di mano d'opera. Allo stesso tempo, però, ignorano le piccole realtà contadine, caratterizzate da produzioni piccole e di altissima qualità, in cui la mano d'opera consiste il più delle volte nel solo produttore. Tratto dal primo volantino della campagna per la libera trasformazione dei prodotti contadini, 2009, Campi Aperti, Bologna. Abbiamo deciso di iniziare con questa lettura perché pensiamo che sia l'elemento che tra tutti spiega bene per cosa è nata la campagna Genuino Clandestino e quali sono i motivi per cui è partito questo movimento che adesso si è diffuso in tutta Italia e che anche in Veneto stiamo provando a portare avanti. Il libro che andiamo a presentare è proprio un viaggio attraverso le realtà che in Italia stanno contribuendo a portare avanti questa campagna, che vuole prima di tutto dare diritto ai piccoli agricoltori e alle aziende di piccola dimensione e non standardizzate secondo le leggi vigenti di stare sul mercato come tutti gli altri e di poter partecipare con i propri prodotti e con le proprie storie soprattutto ai mercati, nelle piazze di diverse città, negli spazi sociali e in vari contesti dove possono portare quello che è il frutto del loro lavoro. Anche oggi qua con questo mercato abbiamo voluto portare quella che è questa ricchezza con degli agricoltori che sono quelli del Veneto e anche dei banchi che portano invece un'altra esperienza diversa ma parallela se vogliamo e anche che a volte si incrocia con questa che è quella del riciclo e del riuso dei materiali. Abbiamo uno degli autori del libro che è Michele Lapini, è un fotografo e che appunto ha portato diciamo uno dei contributi racchiusi nel libro perché questo è un libro fotografico che però è corredato da dei testi e questi materiali diciamo vogliono portare a un racconto più completo e corale di quella che è questa esperienza. È autore insieme a Michela Potito, Roberta Borghesi, Sara Casna e appunto Michele Lapini. Però questo è uno degli aspetti del libro, quello del come raccontiamo questo mondo contadino e crediamo che l'altro aspetto importante che anche emerge da queste pagine è quello delle pratiche concrete e di come andiamo a realizzare tutto quello di cui stiamo parlando da un po' di tempo e quindi per le pratiche abbiamo anche invitato due esperienze di aziende agricole, di realtà insomma che lavorano con la terra e che comunque stanno tessendo reti sui territori in Veneto e abbiamo con noi Cristian dei Canevisti che è una realtà di breganze che si occupa di vino e poi ci racconterà e Silvia del Gasp Gigi Piccoli di Verona che appunto anche sta portando avanti un percorso molto interessante con i piccoli produttori veronesi. Quindi lascio subito la parola a Michele chiedendogli da cosa è partito questo viaggio e volevo anche chiederti come avete selezionato le storie che andate a raccontare e quali sono un po' gli elementi che caratterizzano tutte queste storie, qual è il filo conduttore? Innanzitutto grazie a Chiara, grazie a Sherwood per l'ospitalità e per l'invito. Quello che più o meno sta dentro Genuno Clandestino che è appunto il titolo del libro è un po' una selezione di dieci realtà che fanno parte appunto del movimento Genuno Clandestino dal Piemonte alla Sicilia, abbiamo fatto nove regioni, sono dieci tappe perché in Umbria abbiamo fatto il BIS e come diceva la Chiara è un movimento che principalmente parte e vive di pratiche, ci sembrava opportuno parlarne anche raccontarlo e comunque produrre un qualcosa che potesse rimettere innanzitutto i puntini sulle parole, sulle tematiche che Genuino porta avanti nei vari territori e poi anche per ovviare un po' la mancanza del racconto appunto, visto che nei vari territori in molte realtà dal Piemonte tra Sicilia che lavorano la terra e ha stretto contatto anche con la città, con i vari mercati e con le varie realtà urbane che fanno parte di Genuno Clandestino, una parte un po' diciamo che si sentiva perlomeno noi un po' la mancanza era appunto il poter comunicare anche queste pratiche e il poter fornire uno strumento utile sia che parlasse di quello che fa il movimento sia che fornisce uno strumento utile a chi magari vuol tornare a vivere la terra, a lavorarci in un certo modo ovviamente, scegliendo uno stile di vita che non è quello appunto dell'agroindustria o quello che tendenzialmente si vede appunto raccontato nei vari mezzi di comunicazione. È un libro collettivo come diceva la Chiara perché oltre a noi quattro insomma ci sono stati vari contributi, è nato grazie a una campagna di crowdfunding su produzione dal basso in cui grazie appunto a tanti e tanti produttori e coproduttrici siamo riusciti a effettuare il viaggio perché è stato più di 7 mila chilometri in nove regioni quindi è stato bello lungo. Al libro hanno contribuito anche altre persone che sono più o meno dentro il movimento genuino clandestino da appunto da o produttori o persone che comunque gravitano nel mondo urbano o per esempio Luca Abba che è un esponente della battaglia notabile in Val di Susa. Questa è la scelta delle 10 in realtà, si è basata principalmente sul cercare di dare una panoramica globale di quello che è un movimento eterogeneo come genuino clandestino che ovviamente non può stare dentro un libro o un video o qualunque cosa quanto appunto per la sua eterogeneità però abbiamo cercato di dare un po' vari input e raccontare le varie esperienze in primis per il tipo di insediamento rurale ovvero raccontiamo di realtà che hanno acquistato la terra però anche di realtà che queste terre le hanno occupate o le hanno in affitto o le hanno presi attraverso un acquisto collettivo quindi diventando una comune oppure che lavorano su terreni abbandonati. In più abbiamo cercato di dare anche appunto una varietà su quello che è la produzione appunto agricola e rurale quindi c'è chi raccoglie, c'è chi trasforma, c'è chi alleva, c'è chi coltiva dando appunto una panoramica abbastanza generale. In più anche a livello territoriale perché comunque è un movimento che come diceva Chiara nasce nel 2009 come campagna di informazione a Bologna ma che ben presto si trasforma in un vero e proprio movimento, un movimento che appunto prende piede in molte regioni, quasi tutte direi ormai c'è una bella spinta vuoi la crisi vuoi anche un po' il ritorno ai temi appunto l'alimentazione del cibo, hanno fatto sì che anche in regioni dove fino ad ora il movimento generale andestino non è riuscito a creare una vera e propria rete adesso è presente. Più o meno il nostro obiettivo era quello appunto sia di dare come dicevo prima uno strumento di diffusione di pratiche sia anche per contrastare un minimo e arginare un po' lo sciacallaggio che in molti stanno facendo adesso sulle tematiche dell'alimentazione, del cibo, della ruralità a partire da Expo Nutriamo il pianeta, a partire da Fico, l'altra grande opera bolognese, Italy eccetera eccetera in molti, in tanti e sicuramente troppi ci sono buttati a capofitto su quelle tematiche e su quelle pratiche o meglio sulle pratiche no però solamente sulle tematiche sulle parole che ovviamente nascono dal mondo contadino e dell'auto organizzazione. Con questo libro abbiamo cercato di rimettere un po' i puntini sulle i anche su questa cosa qua cercando anche di evitare che poi arrivasse qualcuno che scrivesse del movimento, cioè la Roberta e la Michela sono da più o meno sempre dentro il movimento e pensavano da tempo appunto di scrivere un qualcosa sul movimento prima che lo facesse qualcun altro come è successo anche in molte altre esperienze di movimento. Quindi questo è stato più o meno il nostro obiettivo. Poi Wuming ci ha fatto la posfazione alla sua maniera e secondo me è splendida e ovviamente tutto è stato possibile sia grazie alla campagna agrofunding ma anche alle realtà che ci hanno ospitato e supportato e le tante realtà che appunto durante il viaggio, durante il percorso e il costruire il progetto ci hanno appunto sostenuto o economicamente o semplicemente dandoci un tetto o organizzando un qualcosa per farci andare avanti. È un libro appunto se lo considero tuttora collettivo, i nostri nomi sono quelli sulla copertina però non siamo i soli autori insomma di questo libro e non è solamente grazie a noi che esiste. Soprattutto grazie appunto qui nei vari territori come qui e come nelle altre regioni appunto mette in pratica quello che è appunto genuino clandestino e quello che sta scritto un po' nel manifesto che è condiviso da tutte le realtà. Quello che mi piace del libro è che le fotografie e le storie attraversano quelli che sono i temi di genuino clandestino, quindi c'è una prima parte che parla della trasformazione dei prodotti che è anche quella che abbiamo letto prima come introduzione, poi si parla dei mercati e anche noi in Veneto continuiamo a discutere di come dare una possibilità a questi produttori di stare nelle piazze a buon diritto come possono stare gli altri produttori e il tema dell'accesso alla terra che è un tema importante per Genuino Clandestino e che è raccolto in una campagna che si chiama Terra Bene Comune e che vede oggi due esperienze principali che sono quella di Mondeggi e un'altra a Caicocci in Toscana e in Umbria e il tema della garanzia certificata su cui poi Silvia sicuramente ci può portare una testimonianza per quanto riguarda il Veneto, quindi l'idea di andare oltre le solite certificazioni per fornire ai consumatori ma anche tra gli stessi produttori un sistema di garanzia basato sulla fiducia ma anche sulla relazione diretta e il controllo di certi parametri che siano insomma condivisi da una comunità il tema delle filiere è quello delle sementi, quindi queste sono un po' le cose che attraversano il libro e che portano a rispondere a una domanda iniziale che è quella chi è il contadino oggi o meglio potremmo dire chi è il contadino e Genuino Clandestino oggi quindi visto che qua abbiamo due esperienze lascerei la parola a loro per proprio capire come tanti di questi termini che utilizziamo ci vengono sottratti da le esperienze che ha citato prima Michele quindi Expo piuttosto che Italy e Fabrica Italiana Contadina Bologna e pensiamo invece di poter tornare a essere sovrani insomma di queste parole e in che modo e come fate questo lavorando la terra oggi? si sente? beh ovviamente diciamo che l'etichetta del contadino si è un po' modificata e per fortuna la stiamo anche modificando dall'altra parte posso solo raccontare la mia esperienza perché così magari si capisce un po' meglio chi è il contadino insomma al giorno d'oggi io ho fatto il militante attivo per tantissimi anni in un centro sociale e comunque coltivavo sempre il sogno di poter lavorare la terra e voi anche per la crisi come si diceva prima diciamo che questo sogno ho tentato di realizzarlo e in parte diciamo ci sono riuscito devo dire che parecchie cose che escono sui giornali sul ritorno dei giovani in agricoltura sono un po' forvianti perché io ho avuto la fortuna di avere due ettari di terreno della mia famiglia e grazie a quei due ettari sono riuscito ad ampliarmi a prendere degli altri terreni in affitto e quant'altro la mia passione è la viticoltura e voglio fare vino insomma ecco e grazie a sta storia sicuramente la mano dei genitori che avevano questi due ettari di terreno è stato sicuramente fondamentale altrimenti sarebbe quasi impossibile acquistare un terreno al giorno d'oggi per chi vuole iniziare da zero o ha un patrimonio alle spalle oppure nel senso è veramente dura e solo grazie a questo insomma diciamo sono riuscito ad aprire questa azienda ma non solo perché inizio a parlare un po' del problema del mondo del vino che ovviamente si lega anche ad altre situazioni e contesti ho preso in affitto una miriade di vitigni internazionali cosa sono i vitigni internazionali? i vitigni internazionali sono per esempio il Cabernet Sauvignon il Merlot il Pinot Grigio lo Chardonnay e quant'altro sono vitigni che sono presenti in tutto il mondo e che sono praticamente standardizzati nel senso che quando fai e realizzi un vigneto un nuovo vigneto acquisti le barbatelle che sono le viti piccole che provengono sempre solo ed unicamente da una pianta e questa è un'omologazione assurda e lavorando in questa situazione mi sono accorto che questa omologazione per la salute delle piante che io coltivavo vedevo che era assolutamente come si può dire scarsa cioè nel senso capitava uno sbalzo di temperatura e lo stress si notava immediatamente e dall'altra parte però ho avuto la fortuna che in mezzo a tutti questi vitigni internazionali ho trovato dei piccoli vigneti di vitigni antichi della zona di Breganze da cui provengo e ci sono circa 16 vitigni a Breganze che penso neanche i breganzesi sanno che esistano e queste varietà sono state completamente abbandonate per logiche commerciali ovviamente è arrivato il merlot il cab nel pinot grigio e bisognava fare bisognava standardizzare il commercio e omologare tutto il sistema della qualità del vino ovviamente si puntava non al livello qualitativo e espressivo di una determinata varietà ma si puntava solo ed esclusivamente alla maxiproduzione alla resa abominevole per ettaro per poter fare ovviamente vini mediocri vini mediocri perché perché una mille esseri viventi uguali identici in uno stesso posto ovviamente comporta ad avere numerose malattie molto di più rispetto ad avere ceppi diversi e quant'altro perché ovviamente caratteristiche e diversità fanno in modo che una pianta sorregga l'altra in caso di difficoltà e viceversa e quindi con questa problematica si entrava in vigna facendo dei trattamenti assurdi con dei prodotti sistemici endoterapici cioè che questi prodotti chimici di sintesi venivano spruzzati in questi vigneti venivano vengono tuttora magari venivano e per fare in modo che questi prodotti entrano nella linfa della pianta e che in qualche modo si cerchi di salvare il salvabile dall'altra parte però avevo anche questa bellissima esperienza di vitigni sconosciuti uno diverso dall'altro e ci stavo veramente molto poco in questi vigneti però non si ammalavano e quindi ovviamente qualche domanda me la sono fatta e lì ovviamente ho iniziato ad informarmi eccetera ho girato tutto il paese di breganze ho girato nei vari vigneti nei piccoli orti nei giardini per recuperare queste varietà e il mio intento il mio progetto futuro è quello di fare vigneti di queste 16 varietà e farle in maniera tra virgolette mista in modo tale che già il primo trattamento per la difesa siano le stesse piante e doverlo fare insomma ecco questa è la mia esperienza adesso io ho 7 ettari di vigneti ne ho circa l'anno scorso ne avevo uno di vigneti antichi adesso quest'anno ne ho tre piano piano tento di convertirmi completamente abbandonare quella brutta strada che ci inquina quotidianamente e cercare di fare un vino che abbia una sua identità e che sia legato al territorio perché evidentemente se c'erano queste varietà in quel determinato territorio c'era un motivo perché insomma un tempo i contadini di un tempo non parlo di contadini degli anni 80 dagli anni 80 in poi qualcosa nella zucca c'è avevano e le cose non le facevano a caso magari sicuramente sbagliavano da una parte ma sicuramente su molte altre cose insomma ci vedevano bene per me chiudendo tornando al discorso delle pratiche del contadino di oggi la cosa fondamentale è quella di riuscire a riportare in vita le pratiche le idee gli istinti dei contadini di un tempo e cercare di avere ben chiaro in mente quali siano stati gli errori di quei contadini e ovviamente guardare anche dall'altra parte nel vigneto confinante dove vengono spruzzate chissà quante robe e sono sempre sotto a far trattamenti e questa cosa qua secondo me è il fruco anche per il futuro perché comunque avere qualcosa di sano e cercare di lavorare con pratiche biologiche biodinamiche sto sperimentando anche la biodinamica per conto mio non sono un estremista della biodinamica però so benissimo che alcune pratiche sono da valorizzare dal punto di vista agronomico e per me questa è la strada faccio una breve parentesi che si parlava dei canivisti faccio parte del gruppo dei canivisti di breganze che è un gruppo di viticoltori ci definiamo viticoltori saggi bevitori che abbiamo la passione del vino e ci troviamo 3-4 volte all'anno per fare delle degustazioni non sui vini che acquistiamo eccetera ma sui vini che produciamo noi in garage piccole cantine e quant'altro una cosa abbastanza autoprodotta illegale e di questo me ne vanto ci troviamo queste 3-4 volte all'anno andiamo a fare dei viaggi legati alla viticoltura andiamo a visitare delle aziende sia estere che italiane e sicuramente anche questa esperienza qua mi ha dato come si può dire la spinta per poter andare avanti perché agli inizi vedevo che le cose proprio non quadravano sia dal punto di vista economico che dal punto di vista umano adesso dal punto di vista economico è rimasto come prima ma dal punto di vista umano sicuramente sto molto molto meglio insomma va bene grazie scusate il povero italiano che c'ho grazie allora io sono Silvia appunto di Verona e partendo dalla domanda che faceva Chiara su chi è il contadino oggi a me piace sempre citare Massimo Angelini che dice che il contadino è chi produce prima per sé e poi per la sua famiglia e poi le eccedenze le vende e in un rapporto ovviamente di diretto con il consumatore ed è chi presidia e tutela il territorio da queste idee a noi siamo partiti a Verona con un progetto che definiamo collettivo perché siamo in tanti che abbiamo deciso di fondare questa società agricola che si chiama La Polaga Rossa abbiamo preso in affitto due ettari in una zona limitrofa la città in città e anche questo è molto importante come esempio di pratica di agricoltura diversa ci piace l'idea che sia proprio in città in una città difficile come quella di Verona questi due ettari facciamo degli ortaggi abbiamo iniziato due anni fa c'è una parte la maggioranza è dell'azienda agricola e affittiamo una piccola parte a un'associazione che gestisce un orto collettivo perché secondo noi l'aspetto della collettività è molto importante ed è anche uno dei motivi per cui ci siamo messi in rete con Genuino Clandestino quando abbiamo iniziato a coltivare questa terra e abbiamo iniziato a partecipare agli incontri nazionali del movimento e ci è piaciuto subito molto abbiamo capito che erano sulle nostre idee e soprattutto la cosa che a me ha molto colpito è che fosse una rete di produttori quindi non erano i soliti che facevano quattro chiacchiere ma erano i produttori che cercavano di auto-organizzarsi e di creare realmente un'alternativa al sistema economico dominante della grande distribuzione e sempre su questo aspetto abbiamo quindi deciso di esportare nella nostra realtà locale veronese le idee del movimento e farle proprie quindi abbiamo pensato immediatamente ad un mercato locale che già c'era che appunto è il Gasp Gigi Piccoli che si trova una volta al mese dove già esisteva una rete di produttori piccola che di produttori resistenti da tanti anni da dieci anni e questi erano produttori che già venivano e frequentavano il centro sociale quando ahimè ancora c'era Verona e avevano partecipato a tutto il progetto del Critical Wine e dalle felici intuizioni di Veronelli e ancora questo mercato esiste lo facciamo una volta al mese in un quartiere della città che si chiama Veronetta un quartiere moltietnico il quartiere dell'università un quartiere molto importante da cui io penso che partirà all'alternativa veronese e qui abbiamo appunto abbiamo appena aderito dopo varie riunioni con i nostri produttori locali alla rete nazionale di Genuino Clandestino e stiamo avviando insomma dei percorsi di certificazione partecipata perché già esisteva qualcosa che è l'autocertificazione appunto nata dall'idea del Critical Wine però secondo noi l'autocertificazione oggi non basta più e ci piacerebbe insomma con il tempo ovviamente non è semplice cominciare ad organizzare appunto un processo di certificazione partecipata anche nella nostra rete locale quindi anche prima parlavamo nell'incontro nostro qui dei produttori del Veneto di provare un'esperienza regionale perché ovviamente non è semplice organizzare le visite in azienda tra i produttori ognuno preso le sue attività quotidiane diciamo che appunto questa cosa è complicata però secondo noi insomma funziona un'altra cosa che è molto importante è la dare una continuità al mercato perché secondo me il mercato è veramente fondamentale al di là dell'importanza dei gruppi di acquisto solidale o di altri metodi di vendita diretta che può avere il produttore io credo che il mercato sia fondamentale ed è anche uno infatti dei capitoli del libro è proprio dedicato ai mercati i mercati danno la possibilità ai produttori di confrontarsi di creare una rete di scambiarsi tra loro i prodotti e di farsi veramente conoscere di parlare col consumatore e di creare veramente quel rapporto di fiducia che chiaramente nel supermercato non è possibile avere quindi su questa su questa idea del mercato ovviamente organizzarlo non è semplice per cui per ora lo facciamo una volta al mese però abbiamo iniziato un piccolo mercato del Gigi Piccoli il giovedì dalle 7 alle 8 la sera insomma una piccola distribuzione in cui ci mettiamo insieme 3-4 produttori e facciamo questo piccolo mercatino perché è molto importante la continuità ovviamente come esiste già in città dove il movimento esiste da tempo se si vuole dare l'alternativa reale al supermercato la continuità settimanale è assolutamente fondamentale e poi il mercato dà anche la possibilità ai produttori di mettersi in rete quindi noi facciamo 4 verdure il nostro vicino dell'Alessia ne fa altre 4 l'altro porta i formaggi si dà una certa possibilità in più e una di di fare degli acquisti settimanali per la propria spesa insomma anche qui in Veneto ci stiamo muovendo io ho speranze che le cose funzionino perché ogni volta che ci troviamo ci sono sempre produttori nuovi ce ne sono diversi quindi ci sono tanti piccoli produttori che hanno bisogno di mettersi in rete e di trovare delle forme di autogestione di autoorganizzazione e questo è sicuramente la strada giusta per la piccola agricoltura contadina grazie e volevo abbiamo ancora meno di un quarto d'ora quindi andiamo verso la conclusione però volevo chiedere intanto a Michele se poteva raccontarci una delle storie per completare questa parte sulle pratiche più significative tra quelle che raccontate nel libro beh sì quella che cioè parlare di una è sempre un po' difficile però magari visto si parlava anche un po' riappropriazione come proprio pratica anche che sta avvenendo fuori anche nel nel tempo più recente di terre con la campagna terra bene comune mondeggi questo fine settimana compie un anno mondeggi sono circa 200 ettari della provincia di Firenze vicinissimo alla città nel classico paesaggio toscano colline vigna e oliveto sono 12 mila olivi ci sono diversi ettari di vigna abbandonato ovviamente e e tanti di seminativo dopo non so quanti anni di mala gestione della provincia che ha lasciato solamente debiti nel nel settore pubblico un anno fa anche seguendo e accompagnando appunto con il movimento generale clandestino una trentina di persone hanno deciso di occuparle hanno aperto un primo casolare perché all'interno dei 200 ettari ci sono anche vari casolari una villa medicia insomma ha un valore c'è un patrimonio storico anche abbastanza rilevante ovviamente è uno dei beni pubblici messi in vendita o meglio messi in svendita perché già tre aste sono andate a deserte e quindi piano piano si sta abbassando sempre più il valore di questo bene pubblico loro si sono fatti promotori appunto di questa occupazione che vuole appunto rendere e mantenere pubblico quello che adesso è fondamentalmente un bene di tutti noi come custodi sociali in un anno hanno fatto dei gran lavori nel senso che hanno avviato diversi progetti collettivi creando appunto comunità quella che magari riesce con più difficoltà caicocci in Umbria che è più o meno la stessa esperienza però molto più isolata dal contesto urbano appunto da una comunità già esistente Mondeggi è riuscito veramente a creare una comunità forte attorno a sé con il progetto del frutteto collettivo hanno piantato centinaia di alberi da frutto con gli orti hanno creato delle parcelle da dare a chi nel comprensorio non aveva la possibilità di coltivare terra e nel fine settimana oltre agli occupanti ci circola centinaia di persone anche nei lavori collettivi appunto questo da venerdì a oggi festeggiavano appunto un anno di occupazione e questa è una delle realtà che appunto forma parte del movimento e è nata anche grazie al movimento perché l'occupazione è nata appunto dopo una tregione di campeggio nazionale lì vicino Bagnarripoli Firenze quella appunto è una delle realtà che abbiamo diciamo recensito raccontato nel libro e che appunto si spera possano essere appunto come esempio e che si possono moltiplicare anche in altre zone d'Italia visto che terre abbandonate pubbliche ce ne sono un sacco e il rischio appunto vengano tolte al comune per essere privatizzate svendute c'è quindi benvenga 10-100.000 mondeggi allora intanto il mercato che è qua intorno a noi continua ancora per qualche ora quindi vi invito ad andare possiamo anche continuare questa chiacchierata insomma bevendo un bicchiere del vino di Cristian o insomma assaggiando quello che ci viene proposto il prossimo incontro nazionale di Genovino clandestino sarà a Milano in ottobre quindi se qualcuno comunque fosse interessato ad unirsi a saperne di più possiamo partire da questa sera per tenerci in contatto e volevo chiudere leggendo una piccolissima parte della conclusione del libro che è A cura di booming 2 che praticamente si intitola dammi tre parole e diciamo suggerisce tre parole di sintesi per tutto questo racconto secondo me è veramente molto bello e vi dico solo la prima così le altre due potete scoprirle leggendo il libro che trovate qua nel banchetto insieme a un'altra selezione di libri su questi temi appunto parla delle parole contadine contro parole scippate parole genuine contro parole intossicate parole da evitare parole da riscoprire la prima parola che vorrei masticare è un plurale femminile pratiche il termine risale a una radice par che indica il muoversi attraverso uno spazio e che ritroviamo in esperienza porta poro pericolo così come nel greco peirao tento e di lì in pirata cioè colui che attraversa i mari e tenta un assalto e nel tedesco Faren viaggiare una parola davvero azzeccata per un viaggio che racconta le esperienze e i tentativi di un'agricoltura contadina e per certi versi pirata ma pratiche al plurale è anche una parola rivelatrice fa parte del dialetto di una precisa tribù al bar sotto casa è raro sentirla e quando capita è perché si parla di burocrazia le pratiche intese come i documenti che si devono presentare allo sportello tal dei tali nel sito di un comune di una cooperativa sociale o di un'associazione puoi forse imbatterti nel concetto di buone pratiche ma è solo se partecipi all'assemblea di un centro sociale di uno spazio occupato o di un collettivo universitario che sentirai ripetere più volte condividiamo le pratiche pratiche di riappropriazione tutti uniti ma ognuno con le sue pratiche eccetera si sa che le parole come la verità corrono il rischio di logorarsi specie quando diventano tappabuchi ma la parola pratica in questo libro è davvero la spezia che dà il sapore al piatto e quindi grazie a voi che avete partecipato al dibattito allo stand di Zoom Out che ci ha ospitati con tutto lo staff di questa tribù che rende possibile il festival e buona serata a tutti